Superata quota 400 e adesso il contagio covid continua a toccare numeri sempre maggiori in città. Nelle ultime 24 ore sono 66 nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare. La curva complessiva sala ancora a 444 contagiati. Sono solo 8 i pazienti guariti ma non si registrano ricoveri. Rimangono 6 gli ospedalizzati in degenza ordinaria. La curva del contagio dunque non accenna a calare e con questi numeri sembra quasi inevitabile la proroga della zona rossa che teoricamente dovrebbe terminare alla mezzanotte di venerdì ma in base ai nuovi dati di questo inizio settimana più 150 contagiati in appena tre giorni rischia di essere stesa di un'altra settimana a meno che non arrivino nuove disposizioni dal dpcm al vaglio del governo nazionale. A far riflettere sono però i dati del contagio relativi alla fascia di età dei nuovi positivi. Analizzando solo i contagi che vanno da lunedì 12 luglio a domenica 18 luglio su 320 nuovi casi segnalati dall'asp ben 156 sono ragazzi nati dal 1998 in poi. Quasi il 50 per cento dei nuovi contagi dunque sono giovanissimi under 22 dato che cresce fino al 65 per cento se si mettono dentro anche gli under 25. Tutti i nuovi contagiati sono asintomatici o paucisintomatici ma il dato evidenzia il fatto che il virus corre sulle gambe dei ragazzi negli eventi di queste ultime settimane nelle serate danzanti senza mascherino distanziamento organizzate nell'idi nelle spiagge e non ultimo durante i festeggiamenti di piazza dopo la vittoria dell'italia negli ultimi europei. Gran parte dei contagiati hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino ma tra i giovanissimi si contano anche parecchi non vaccinati. Calano intanto le prenotazioni per le inoculazioni delle prime dosi del vaccino. Ad oggi la Sicilia è ultima in Italia per vaccinazioni in tutte le fasce d'età prima per incidenza dei contagi. L'ultima istantanea sulla copertura vaccinale e quella sull'andamento dell'epidemia nell'intera isola sono le facce della stessa medaglia. La combinazione di questi due fattori di fatto mette in rischio la sicurezza dell'estate siciliana sulla quale si allunga anche lo spettro della variante delta responsabile del 38 per cento dei nuovi casi. Intanto si registra un nuovo caso di contagio all'interno dell'ospedale. Una volontaria del Vittorio Emanuele è risultata positiva all'ultimo tampone di controllo. La paura adesso è che ci possa essere un focolaio proprio all'interno della struttura sanitaria gelese. Immediata è scattata la disposizione del tampone molecolare per tutti quelli che sono venuti a contatto della volontaria che adesso si trova in isolamento domiciliare. Un altro campanello d'allarme, l'ennesimo dopo quello degli infermieri e dei medici positivi per una città che non riesce a uscire dall'incubo di una zona rossa che sta pesando come un macigno sull'economia locale.